Salve, volevo approfittare di questo video, è un po' che non ci vediamo, per presentare brevemente l'ultima lettura. Si tratta di una lettura un po' insolita, una sceneggiatura, la sceneggiatura del posto delle fragole, fatta integralmente sul testo di Bergman. Mi è capitato qualche altra volta di leggere delle sceneggiatura, per esempio Sunset Limited di McCarthy, poi non so, qualche testo teatrale, l'ultimo anche Scene da un matrimonio, sempre di Bergman, che abbiamo fatto a due voci. Questa è una lettura di una sceneggiatura fatta integralmente, senza metterci mano, insomma, è letta così come si può leggere un libro a una sola voce, e quindi interpretando le parti di tutti, senza cambiare voci e senza nominare personaggi, è la prima volta che mi capita di farlo. Ma soprattutto è la prima volta che mi capita di farlo sul testo su cui è stato costruito un film così importante, così famoso, nella filmografia mondiale di tutti i tempi, come Il posto delle fragole. Perché l'ho fatto anche? Diciamo che il suggerimento mi è stato fatto attraverso una mail, che mi chiedeva se ho mai pensato di realizzare degli audiolibri per le sceneggiature di Bergman. Continuavo così. E allora io mi ci sono provato, come mi capita di solito un po' incoscientemente, di buttarmi un po' sulle cose. Da troppo, insomma. E non ci si butta adesso alla mia età, quando? E poi, come direi testi di Bergman, sono testi che ho molto amato, il settimo sigillo sin da quando ero bambino ancora. Il posto delle fragole è un po' dopo, ma è un film che ho rivisto più volte, perché questi film sono film che si rivedono. E sono film che ti segnano la vita. Sono quelle cose che danno bellezza alla vita, insomma, che ti portano a pensare e a dare bellezza alla vita. E quindi, come dire, forse cementarsi con questo testo è un po' un impegno, insomma, è un po' dura. L'ho fatto anche molto liberamente, molto facilmente. Non è che l'ho studiato prima, insomma, è una cosa che ho letto come il solito a prima vista. E appunto, dicevo, senza dare troppo rilievo alle voci dei vari personaggi e senza anche nominarli quando parlano. Quindi si dovrebbe capire ugualmente quando parla uno e quando parla l'altro. Insomma, speriamo che tutti lo capiscano. Però questo video era soprattutto per cercare di trovare una chiave in questo film, quella che almeno è, secondo me, insomma, una chiave per poterlo capire. Questo film è di conseguenza anche per capire la sua sceneggiatura, che a me è servita anche per capire ancora di più il film. Ho l'impressione che leggere questa sceneggiatura sia anche, come dire, liberandosi dalle immagini, dalla suggestione di queste bellissime immagini, di questi splendidi interpreti, insomma. Di avere lo spazio mentale e anche il vuoto, diciamo, necessario per entrare anche nella parola, nella fantasia che il testo trasmesse. Quindi c'è una capacità immaginativa al di là di quella che ti suggerisce l'immagine già data, già offerta dal film. E allora vediamo un attimo, insomma, di capire dove va questo film, che è tutto costruito su una giornata del protagonista, che è un vecchio, un vecchio di 76 anni, che ormai, diciamo, è un vecchio che si è ritirato un po' dal mondo, vive con la sua governante, che era un antico professore di microbiologia, mi pare, che adesso vive questa vita solitaria attraverso i suoi interessi, un po' disilluso, soprattutto anche dai rapporti umani del mondo. E quindi chiuso in questa sua, diciamo, sfera di cristallo, passando i suoi giorni in maniera monotona, insomma, uno dopo l'altro. E quindi è in attesa della morte, diciamo così, no? In questo modo di trascorrere gli ultimi anni della vita, progressivamente si inasprisce, insomma, no? Cioè il suo carattere diventa progressivamente più chiuso, più aspero, meno portato ad essere con gli altri. E soprattutto si trova a riflettere e quindi ad elaborare, come necessariamente accade, soprattutto a una certa età della vita, insomma, a elaborare la propria morte e a fare anche un bilancio della propria vita. C'è una frase che mi sono segnato in un certo momento della sceneggiatura di questo film, e questa frase dice perché nonostante tutto quello che fai, in fondo non sai niente. Come dire, non basta neanche la coscienza di essere stato un personaggio, diciamo, importante, influente, insomma, in questo caso anche un, sì, professore universitario, quindi un intellettuale, per darti la sensazione di avere costruito, per reggere l'elaborazione della morte, insomma, no? Attraverso la constatazione di aver fatto una vita tensa, importante, insomma, di aver fatto tutto quello che dovevi fare nella vita, insomma, e quindi di esserti costruito attraverso le tue azioni, il tuo fare, il tuo agire nel corso della tua esistenza. Allora, arriva un momento in cui, nonostante tutto quello che hai fatto, non sai niente e devi elaborare questo futuro sempre più prossimo che ti si aspetta. Ormai la vita non è più una costruzione, cioè non è più come, come dire, una serie di possibilità. Ormai è, diciamo così, un'attesa, un'attesa di qualcosa che comunque prima o poi arriverà. Tutto è possibile per i giovani, no? La vita dei giovani è proiettata sul futuro, cioè il futuro è, ed è una serie di possibilità, no? Di possibilità diverse che ti si offrono. Un campo aperto che ti si spalanca davanti. La vecchiaia invece no, è qualcosa che ti si... È un terreno che un po' alla volta, giorno per giorno, ti si chiude davanti. E allora cosa rimane? Rimane la potenza dei ricordi. E cosa dice allora in un'altra frase la sceneggiatura di questo film? Compresi allora che non era facile parlare con i ricordi, non è facile parlare con i ricordi, non è facile confrontarti con i ricordi, perché i ricordi non sono soltanto una serie di belle cose che ti sono successe, una serie di cose piacevoli, ma sono anche una serie di cose che disturbano la tua memoria. E soprattutto sono anche una serie di cose che ci sono state nella tua vita, e che mentre per le occasioni che hai colto sai poi quelle esperienze come sono andate a finire, per quanto riguarda le occasioni mancate, tu non sai quello che avrebbe potuto essere di queste esperienze che non hai fatto, a cui hai rinunciato. Ed ecco che si presenta un'occasione, insomma, al protagonista di questo film, che ha un nome biblico, come tanti altri personaggi di questo film, Isaac. Isaac a un certo punto deve andare a partecipare a una cerimonia in cui si celebra il cinquantesimo della sua carriera accademica, insomma. E quindi è una cerimonia importante, doveva andarsi in treno, invece preferisce di sua iniziativa di fare un viaggio in auto. È un viaggio che gli si apre davanti, e questo viaggio sarà un viaggio in due sensi, sarà un viaggio che ha due direzioni, una direzione, diciamo, da luogo a luogo, quello del viaggio propriamente detto, e un'altra sarà una direzione di un viaggio nella memoria, a ritroso nella memoria, perché durante questo viaggio succederanno delle cose, farà degli incontri e andrà in luoghi della memoria. Abbiamo detto che la memoria è una cosa difficile da elaborare, però è la cosa che nella vecchiaia deve succedere, per affrontare poi dignitosamente l'idea della morte, cioè per avere una relazione positiva con la morte. Tu ti devi ritrovare con la tua infanzia, ti devi ritrovare con la tua vita precedente, cioè devi entrare nella dimensione dei ricordi, della memoria, e devi fare pace con questi, cioè questi ricordi non devono essere più qualcosa di disturbante, ma li devi in qualche modo elaborare, accettare, renderli coscienti, accettarli, capire che esistono e capire quanto si può capire della tua vita passata. E' un arrivare a conoscerti meglio, ma anche un arrivare ad accettare quello che sei stato o quello che non sei stato, perché a volte disturba anche quello che non sei stato, quello che non sei diventato nel tuo passato, e quindi adesso, durante la tua vecchiaia. E quindi è un viaggio all'indietro, nella memoria, verso un luogo, e sarà un luogo in cui lui riceve una gratificazione, insomma, viene riconosciuto come dalle autorità accademiche, insomma, partecipa a una cerimonia fatta anche in suo onore, insomma, una cerimonia importante. Ma ovviamente questa cerimonia è il protesto, perché poi il viaggio più importante appunto è quello che fa nella memoria. Si ritrova in un luogo dove è vissuto da giovane, rivede nella fantasia, nell'essere in quel luogo, gli compaiono davanti tutte le figure della sua adolescenza, della sua infanzia, della sua giovinezza, e con queste ristabilisce un certo rapporto e rivede, insomma, le cose che gli sono successe. Soprattutto ritrova una figura che lui, quella di Sara, che lui ha amato durante la sua giovinezza e che poi, insomma, e che poi ha perduto. Questa nel luogo, nel posto delle fragole, insomma, ritrova questa, il posto delle fragole, insomma, il posto della primavera, della stagione giovanile, della stagione in cui fioriscono, la natura fiorisce, ma fioriscono anche i sentimenti, gli amori, le fantasie. Lui invece avrà un matrimonio infelice alle spalle, il nostro protagonista, e da questo matrimonio avrà un figlio, il quale figlio anche lui sarà in qualche modo infelice, diventerà professore universitario, ma avrà anche lui una visione della vita, una visione che gli fa a un certo punto rompere anche la relazione con la moglie, perché nel momento in cui la moglie attende un figlio, lui non accetta questo figlio, essendo che si tratterebbe di mettere al mondo un essere in una vita che non merita di essere vissuta. Esperienze di vita, la sua, quella del figlio, che hanno un modo, diciamo, negativo di accogliere la vita. Ecco, allora ci saranno anche altre figure che intervengono in questo film, e questa moglie del film lo accompagnerà in tutto questo viaggio. E in questo viaggio succederanno delle cose, succederanno delle cose che faranno sì che man mano il vecchio, riscoprendo la sua memoria, si addolcirà nel suo atteggiamento nei confronti della vita. Nel momento in cui lui si addolcirà in questo atteggiamento, di conseguenza si comporterà in un altro modo anche con gli altri. Man mano che il vecchio si osserverà nel suo passato, e quindi si riconcilierà col suo passato, e quindi farà i conti con la sua memoria, e riproverà la dolcezza, la nostalgia, il rimpianto di quello che è stato, man mano anche lui si trasformerà, diventerà un'altra cosa, diventerà migliore in qualche modo, e quindi il suo rapporto con la morte sarà anche migliore. E migliorando il suo rapporto con la morte, sarà migliore anche il suo atteggiamento nei confronti degli altri che lo circondano, nei confronti del figlio, quel quale aveva una certa durezza, pretendeva il risarcimento di un prestito che lui aveva fatto a questo figlio, diventerà, come dire, il più gentile nei confronti della nuora, diventerà più gentile nei confronti della domestica che lo accudisce, insomma, diventerà una persona migliore. Ecco allora che si tratta di un viaggio attraverso, questa volta fatto da un vecchio, ritorno al piccolo principe in cui invece il viaggio, l'acquisizione dell'esperienza così è fatta da un bambino, spesso ci sono dei racconti che sono iniziatici e che riguardano soprattutto l'infanzia, un modo di diventare adulti, ma c'è anche un modo di diventare vecchi più saggi, cioè di capire e di accettare la morte che ti attende, insomma, di trovare il modo migliore per accogliere una sorte che non puoi più rimuovere. E i sogni che lui fa anche, no? I sogni iniziali sono la presa di coscienza che c'è qualcosa dentro di lui che non può più essere rimosso, insomma, che deve prendere coscienza anche di questo. E questa presa di coscienza passa attraverso la riscoperta, l'accettazione, la rielaborazione dell'infanzia. Anche questa è vissuta in una dimensione nel film tra sogno e realtà. No, questo viaggio all'indietro. fino anche al padre, no? Questa figura che sentiamo sempre un po' lontana e che ritroviamo solo alla fine del film, no? Il padre. Altra figura con la quale se non si ristabilisce una relazione positiva è difficile poi vivere bene la propria vita. È importante fare pace con il proprio padre, ritrovare il padre in un certo momento a una certa età. Se si vuole avere poi la possibilità di fare una vita più serena, meno conflittuale. A me ricorda anche l'atmosfera, per esempio, quella di Piccola Città, di Total Wilder. Anche lì c'era questa nostalgia in una piccola città americana questa volta di un tempo passato che non ritorna più, no? E anche qui è un po' la necessità dell'accettazione di questo tempo che non ritorna. Ho visto con nostalgia, ma bisogna un po' affrontarlo, sapere, capire anche, come dire, elaborare anche le occasioni che si sono perse nella vita, gli amori che non sono andati a buon fine, insomma. di ritrovarli nella nostra memoria, di riviverli, di risentirli, di non rimuoverli soprattutto. Ecco, quindi, rispetto alla morte, una visione positiva, insomma, più positiva di quella che era stata la visione nel settimo sigillo. fa intravedere una modalità, insomma, un percorso di iniziazione attraverso la memoria, la riscoperta di luoghi, persone del proprio passato che permette poi una riscoperta anche delle persone che vivono con te nel presente. Ma nel momento in cui tu diventi migliore, riscoprendo il tuo passato e rielaborando quello che è stato, allora puoi essere migliore, puoi migliorare anche il rapporto con quelli che stanno e soprattutto puoi diminuire quella che a un certo punto è l'angoscia esistenziale, insomma, che tocca a tutti noi, insomma, quella di confrontarsi con l'ignoto che ci aspetta una volta che saremo morti, insomma, quindi con quello che è prossimo a venire quando si supera una certa soglia di età. Ecco, questo poi, insomma, riguardo al posto delle fragole. Poi ci sono anche tante altre cose da dire, ma lasciamole magari per un'altra volta o per la discussione. Un saluto.